ciao amici di my fast book il prossimo 21 marzo uscirà in tutte le librerie il nuovo libro di giuseppe culicchia essere nanni moretti e della edizioni mondadori racconta la storia di bruno bruni un uno scrittore di libri di narrativa ma che non è mai riuscito a sfondare veramente tenta ripetutamente da parecchio tempo di scrivere il grande romanzo italiano ma purtroppo con scarsi risultati non riesce a sfondare non riesce ad avere quel passaparola agognato per la sua pubblicazione e tantomeno vincere il premio strega un giorno la fidanzata selvaggia perde addirittura il lavoro e lui quindi precipita in una spirale dove non riesce a tirarsi fuori si lascia crescere la barba e inizia a presentarsi a lui una strana situazione insomma la gente incomincia a riconoscerlo come nanni moretti nanni moretti il grandissimo regista italiano questa situazione prende sempre più piede fino a che un giorno selvaggia non gli suggerisce di sfruttare questo talento e quindi di diventare sempre di più simile grande regista e di diventarne se non addirittura il suo sosia e lui accetta la sfida insomma iniziano a girare l'italia fino a che un giorno non approdano alla mostra del cinema di venezia un romanzo brillante una satira sui vizi dell'industria culturale italiana una riflessione sulle aspirazioni sull'invidia e sull'accettazione di sé un libro simpatico da leggere uscirà il prossimo 21 marzo in tutte le librerie di giuseppe colicchia essere nanni moretti non 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 Grazie a tutti.